Buonasera e benvenuti alla puntata solita di conversazioni di fotografia. Questa sera in anteprima vediamo il backstage del lavoro che è stato fatto, di questo workshop che è stato fatto a Nitastore d'Arcevia, con il quale abbiamo tentato, con introvisione, ma soprattutto ho tentato anche col gruppo degli ex fotografi del manifesto, di recuperare usi, abitudini, tradizioni e cultura contadina. Questo già partendo da tre workshop che abbiamo fatto nelle Marche, la figura di Mario Giacomelli, che poi voglio dire, dobbiamo sempre onorare, non solo per la sua presenza, ma particolarmente in questo mese, perché ricorre l'anniversario della morte. Quello che devo dire, e poi vi lascio il filmato, è che una parte di questo filmato è riservato a alcune riflessioni su un percorso amoroso. E sul percorso amoroso abbiamo anche poi tentato di mettere in piedi un corto, facendo sinergizzare le immagini con le riprese video e creando in realtà una poesia visuale, o almeno tentando di creare una poesia visuale. Quello che vediamo adesso è l'accenno a questo film breve, ma nello stesso tempo arricchito, soprattutto arricchito, da quelle che sono le immagini del backstage del workshop. Dobbiamo ringraziare per questo tutti quelli che hanno partecipato e il videomaker Rotatori Giordano. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!